Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. L'assassino torna sempre sul luogo del delitto, niente mi piaceva iniziare così la puntata con una minchiata, però come avevo raccontato in una delle ultimissime puntate ho corso nuovamente il Chianti Ultra Trail nella versione Marathon, quindi essendo versione Marathon 42 km e spiccioli con 1400 metri di dislivello positivo e appunto sono tornato perché l'avevo già fatto paro paro nel 2022. In verità poi questi 1400 metri dichiarati sono un po' ottimisti, infatti sia lo scorso anno che questo, sia il mio Garmin e anche quello di tanti altri hanno sempre segnato oltre 1500 metri di ascesa, ma alla fine della fiera poco cambia, resta pur sempre un tipo di competizione che mi piace anche se volevo bensì adatta alle mie caratteristiche, perché è un trail ma assolutamente non tecnico e tendenzialmente piuttosto corribile. Di come poi sono arrivato a questa gara ve ne ho anche parlato di recente nell'episodio Road to Chianti Ultra Trail per l'appunto, ve lo lascio comunque linkato nelle note caso mai vogliate vedere gli allenamenti che ho fatto per arrivarci, però in quell'episodio vi dicevo di non aver fatto nello specifico alcun tapering particolare in vista di questa gara, infatti l'ho utilizzata più che altro come un allenamento lungo in vista del prossimo appuntamento ciccione, cioè la Tascani Crossing. E le gambe erano già mezze pesanti in partenza in questa gara, avendo corso anche con qualcosa devo dire di intenso nei giorni precedenti. Ed il diktat del coach Andrea Tarlao era quindi di gestire le energie, sostanzialmente di andare piano, e così ho fatto più o meno, perché adesso che veniamo al racconto della gara vi spiego meglio. Questa Chianti Ultra Trail era al sabato, per la precisione il 25 marzo, anche se tutto l'evento si dipanava su un paio di giorni, diciamo tre, al venerdì c'è il ritiro pettorali, poi al sabato le gare più lunghe e alla domenica invece quelle più brevi. Io quindi facendo la gara da 42 era considerata quella lunga, anche se non la più lunga in assoluto perché c'erano anche due distanze ultra, e quindi sono giunto in zona Chianti però solo la sera precedente al venerdì. Per cui, così come ho anche fatto lo scorso anno, sono andato a ritirare il pettorale giusto pochi minuti prima della partenza, così da evitare di dover fare avanti indietro due volte. Infatti, che questa è ormai un po' diventata la gara di casa, o meglio, diciamo che è la gara di casa della mia ragazza, che abita ad una mezz'oretta di auto da radanchianti per l'appunto. Così l'ho costretta ad una levataccia alle 5 del mattino in un giorno neanche lavorativo, in modo però da avere il tempo di prepararsi, arrivare a Radda, ritirare il pettorale ed essere in griglia entro le 7 orario del via. Nel mentre erano anche già belle che partite le altre distanze, quelle ultra, come dicevo prima, da 73 e 100 chilometri. Insomma, tutti decisamente mattinieri qua al Chianti. Venendo alla mia invece di gara, la colazione è stata quella standard, ormai super collaudate in queste occasioni, con fette biscottate e marmellata un paio d'ore prima del via, quindi insomma appena sveglio alle 5. E poi a circa 30-35 minuti dalla partenza ho preso un primo gelino abbastanza piccino, però giusto per partire bello pieno di carboidrati. In griglia ho beccato il collega content creator Luca Trailrun ed il mitico Simone aka Tartarunner, con il quale chiacchiero a lungo, praticamente tutto il tempo di attesa prima dello sparo. Purtroppo per Simone alla fine non sarà una giornata positivissima, ma sono veramente certo che si rifarà nelle prossime gare, anche perché gli aspettano delle belle sfacchinate. Un grande abbraccio ed un in bocca al lupo, Simone. Conscio del fatto poi di dover andare piano per praticamente tutto il tempo, non mi sbatto neanche per prendere un buon posto in griglia. Resto lì dietro, buono buono, con Simone abbastanza nelle retrovie, mentre invece tanti altri si accalcano per le file più pregiate. Memore dell'esperienza dello scorso anno dove mi ero coperto decisamente troppo, stavolta opto per solo una maglia a maniche lunghe, maniche che poi tirerò su nel corso della gara. Per il resto più o meno solito abbigliamento, cappellino, fascia a scaldacollo, pantaloncini corti e ovviamente vest, con acqua e tutta la parte di reintegro da utilizzare infilata nelle varie tasche. Anche stavolta niente bastoncini così come feci nell'edizione precedente. L'unico mio dubbio dei giorni precedenti era circa le scarpe. Alla fine ho deciso di correre con le oca speed got 5, ho fatto una scelta più conservativa, però questa è potenzialmente una gara da scarpa più leggera e più reattiva. Ero tentato dalle oca zinal, ma addirittura uno forte, non il mio caso, ma uno forte forse avrebbe anche potuto azzardare qualcosa da strada. Ma sapendo di dover andare piano questa volta, ho preferito optare per qualcosa che fosse più protettivo e più comodo. Chiacchierando con Simone non mi accorgo neanche che sono già arrivate le 7 e di conseguenza al via. Decisamente rispetto a tante altre occasioni in precedenza sento molto meno questa gara, sento meno l'agonismo. Sarà che tra la 20 km del 2021 e la 42 dello scorso anno è una gara che conosco. Sarà che non ho particolari ambizioni, sarà che tanto mi tockerà non spingere, quindi parto relativamente tranquillo, restando più o meno sempre in zona 2, massimo zona 3. Anche perché la prima parte è veramente facile e quindi di conseguenza è semplice rimanere in queste zone. Tutta discesa, sempre su terreni semplici, a volte anche su asfalto, anche per lunghi tratti. Che poi comunque qualcosa in più in gara si fa, si dà di più, è inevitabile, anche inconsapevolmente, ma insomma in ogni caso cerco di pormi perlomeno dei paletti. Dopo un paio di chilometri saluto un ragazzo con la maglietta di sterrato e tra l'altro di gente con cappelline e maglietta di sterrato ad ogni gara di trail ce ne sono un sacco. In questo caso è Francesco Mazzi. E un po' come è accaduto lo scorso anno con Pierpaolo e Valerio, iniziamo a chiacchierare amabilmente e correndo andando grosso modo allo stesso ritmo. Anzi, in verità Francesco ne ha più di me, c'è poco da fare, ed io glielo ripeterò più volte nel corso del tempo. Ma essendo la sua prima 42 km su trail preferisce andare cauto. Addirittura in un paio di occasioni mi staccherà, ma molto 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 gentilmente si fermerà per aspettarmi, nonostante che io li perlì intimi di andare avanti del suo passo e non preoccuparsi per il sottoscritto. Alla fine comunque resteremo insieme per circa 27-28 km complessivi. Dei primi km di gara però c'è poco da raccontare oltre a questo. Anche a livello paesaggistico se vogliamo sono i meno belli, però l'altimetria consente di mantenere veramente un bel passo anche senza forzare e quindi insomma questi minuti trascorrono veloci. A maggior ragione anche aiutati dal clima, temperatura veramente ideale per correre. Dapprima con un cielo coperto che poi lascerà il posto al sole nelle ultime ore di gara. Nonostante il mio ritmo controllato, passo al primo intermedio, posso dopo circa 10 km in circa 50 minuti, ma era veramente tutta disceso, al limite falso piano. I primi 6,5 km tutti tutti di discesa, anche bella veloce. Poi sì qualche salitina ma nulla di che. Contestualmente qua in località Terra Bianca è posto anche il primo ristoro. Sono pure tentato di non fermarmi nemmeno perché non è che mi serva molto ma alla fine, convinto anche da Francesco che essendo di Modena di buon cibo evidentemente se ne intende, decido di farci una rapida capatina ma prendo giusto un pezzo di crostate, un po' di frutta secca al volo e poi si riparte subito. Questo ristoro è stato decisamente meno ricco di roba rispetto allo scorso anno ma vi dirò che secondo me hanno fatto bene per non andare a sprecare del cibo perché di grosse necessità in questo momento di gara non ce ne sono e moltissimi runner manco si fermano. Durante la gara non ho neanche fatto minimamente caso i miei tempi perché lo spirito con la quale ho corso per tutto il giorno era solo di gestire le energie basando molto sul percepito e proprio per scelta non volevo farmi influenzare e volevo solo correre a sensazione o al massimo guardando la frequenza cardiaca. Invece alla fine arrivato poi a casa ho riguardato i miei parziali del 2022 per confrontarli con quelli di quest'anno ed in questa prima fase ho scoperto addirittura di aver abbassato il tempo personale già di quasi 5 minuti rispetto alla mia prestazione di un anno fa. Poco prima del ristoro avevo anche preso il primo gel di una lunga serie. Grosso modo ne prenderò uno ogni 40 minuti alternando anche con qualcosa di solido ai ristori prendendo una sola barretta in più in una delle salite più lunghe di giornata. Nelle flasque avevo sciolto prima di partire anche due pastiglie con un mix di sali e carboidrati come già fatto anche nella mezza maratona delle due perle corsa inizio febbraio. Da qua in poi i paesaggi cambiano un po' e si entra maggiormente nel vivo sia del Chianti che della gara e cominciano pure le salite ma mai nulla di impossibile. Non è per nulla una gara tecnica lo accennavo anche prima e sia a livello di pendenze che di terreni si può correre con grande costanza e continuità cosa che io comunque non faccio al 100% in tante salite alterno corsa e camminata per mantenere sempre un livello di sforzo che sia il più costante possibile. Si entra in qualche boschetto ogni tanto e quando se ne esce c'è veramente da godere a livello di panorami sulle tipiche colline toscane ricche di vigneti e alberi. Questo per usare un termine ciclistico è un tratto mangia e bevi. Ci sono tanti strappetti di breve durata in cui si alterano salite e discese ma sempre con pendenze assolutamente accessibili e gestibili. Si va dal 5-6% all'8% di media per avere un'idea. Continuando a parlare con Francesco quasi non ci accorgiamo del tempo che passa ed arriviamo al secondo ristoro appoggio San Polo veramente senza rendercene conto. Comunque sia tra i due ristori c'erano in mezzo pur sempre circa 11 km e qualche metro di dislivello positivo. Anche qua sempre controllando postumo i parziali scoprirò di aver limato altri 3 minuti dal mio tempo del 2022. Il ristoro è sostanzialmente piazzato alla distanza della mezza maratona ovviamente a livello di chilometri ma memore dello scorso anno so che il grosso delle salite deve ancora arrivare. Pure qua prendo un paio di pezzi di crostata riempio anche entrambe le borracce con l'acqua prima di ripartire dato che sto bevendo come un cammello e da qua al prossimo ristoro ci saranno in mezzo parecchi chilometri e metri di salita. Non vedo lì per lì più francesco e presumo sia già ripartito invece non me ne ero accorto ed era rimasto imbottigliato in coda anche lui nel riempire le sue flasche nell'unica tanichetta di acqua liscia messa a disposizione in questo ristoro. Ripartendo cerco di scrutare davanti a me se lo vedo ma non lo noto e grazie al cavolo che non lo vedevo era dietro di me. Per sua fortuna la gamba lo assiste decisamente ed in poco tempo mi recupera agilmente. La gara vera del Chianti Marathon Trail secondo me inizia qua dopo questo ristoro dove poi è concentrato il grosso del dislivello. Resta vero che in ogni caso si tratta di una gara decisamente tutta corribile e 1400-1500 metri di ascesa su 42 chilometri non sono molti ma trovandosi quasi tutte le salite concentrate nella seconda metà il rischio di aver forzato troppo nella prima fase c'è per poi pagarne eventualmente le conseguenze e quindi inizia a fare più caldo e vado a levarmi il buff. Questa fase centrale di gara è forse quella dove i paesaggi sono ancora migliori migliori in assoluto anche se tolti i primi chilometri è tutto davvero bello. Continua questa alternanza tra zone della macchia un po' più fitta ed altre più aperte e anche soleggiate nel cuore della campagna toscana. In questi chilometri iniziamo anche ad incrociare gli atleti della 73 chilometri. In particolar modo parliamo per qualche minuto con un ragazzo di Bergamo che purtroppo anche con altri amici aveva sbagliato strada. In un certo senso li facciamo passare lo scoramento dovuto all'errore con delle disquisizioni altissime su cibo e vini per dire. Incrociamo anche altre persone qua e là e scambiamo due parole il che va a certificare ulteriormente il mio stato mentale e fisico di questa gara ossia un pettorale ma vado relativamente tranquillo anche perché se no con il cuore in gola non sarei nemmeno in grado di parlare così tanto e se vogliamo anche di godermela. Tuttavia come faceva giustamente notare anche Francesco più passo al tempo e più le nostre parole tendono comunque a diminuire. Personalmente in fatto di fiato e di frequenza cardiaca sto benissimo non sento grossi affanni invece di contro comincio a percepire le gambe decisamente più pesanti di muscoli che vanno ad indurirsi man mano. Questo anche per via dell'essere arrivato qua non scaricato per inventare un neologismo che però penso possa rendere l'idea. E sapendo cosa mi aspetta ulteriormente mi impongo di non forzare. E così più o meno nel solito punto dove c'eravamo staccati anche lo scorso anno io Pierpaolo e Valerio Francesco mi droppa definitivamente in un tratto di leggera discesa poco prima dell'inizio della salita che porta a Vertine. Abbiamo lo stesso condiviso lungo tratto di gara dove gli ho fatto compagnia e magari aiutato a non esagerare ma al tempo stesso forse l'ho pure rallentato. Comunque a prescindere personalmente è stato un vero piacere. Siamo attorno al trentesimo chilometro quando appunto inizia questa ascesa che l'anno scorso mi aveva letteralmente spezzato le gambe. Non è chissà poi che cosa anche a guardare i freddi numeri. Sono un paio di chilometri con in mezzo anche un breve falso piano in cui si accumulano poco meno di 200 metri di dislivello positivo però arrivati a questo punto si fanno sentire. Gestisco decisamente gli sforzi sentendo un po' di stanchezza e di affaticamento nelle gambe. È forse l'unica fase dove anche quest'anno arranco leggermente ma sempre relativamente in controllo della situazione. Mi fermo al volo a Vertine a riempire una borraccia alla fontana e mi getto giù per la discesa. Al termine inizia l'altra salita tosta della gara che porta all'ultimo ristoro posto a Villa Vistarenni. Anche qua nulla di trascendentale, anzi rispetto all'ascita precedente le pendenze sono ancora più dolci. Sono alti due chilometri al 7% di media ma con dentro dei momenti pianeggianti dove respirare e volendo rilanciare il passo. Gestisco con la stessa filosofia di prima anche questo tratto. Camminando abbastanza e non facendomi troppi problemi se qualcuno mi superava. Mangio anche l'unica barretta di giornata che regolarmente come tutte le volte che mi mangio delle barrette mi si impasta in bocca. Transito al ristoro di Vistarenni dopo circa 4 ore e un quarto con un parziale tra un ristoro e l'altro identico, veramente identico a quello della scorsa edizione, 2 ore e 6 minuti. Questo era senza dubbio il tratto più complesso di gara, sia per la distanza tra i due checkpoint che per le salite, cui si sommano i chilometri accumulati nelle gambe. Gambe che effettivamente sento proprio come due pezzi di legno, per cui per non incorrere in crampie e fastidivari mi fermo qualche secondo extra al ristoro. Questo però davvero davvero ricco, anche perché in comune con gli atleti delle distanze più lunghe, dove loro hanno anche la drop bag e qualcuno assistenza personale. Riempio anche l'altra flask e mi mangio qualcosa di solido prima dell'ultimo tratto. La situazione meteo è favorevolissima, nel frattempo è uscito un bel sole primaverile e visto che si sta andando verso le ore centrali della giornata, quando si è nei tratti non coperti dagli alberi scalda anche parecchio devo dire, ma al tempo stesso c'è una brezzolina abbastanza fresca a compensare. Complessivamente siamo stati fortunati da questo punto di vista. Ha piovuto qualcosa ma poca roba nei giorni precedenti e questo ha sì comportato a qualche pozzanghere fango ma niente di particolarmente complesso da affrontare. Per il resto situazione veramente splendida e ideale direi. Uscendo dall'ultimo ristoro guardo sostanzialmente per la prima volta il cronometro ad eccezione di quando l'ho fatto per alimentarmi e scopro di essere grossomodo in linea per chiudere attorno alle 5 ore, cosa che mi sorprende lì per lì? Anche perché a questo punto mancano 6 km alla fine seppur ci sia ancora da salire abbastanza. Ma prima di affrontare le ultime asperità c'è prima una discesa post ristoro e qua mi gioco la carta gel con la caffeina che rispetto agli altri ha qualche carboidrati in meno ma teoricamente dovrebbe darmi un kick in fatto di energie. Onestamente come ne parlo anche in altre occasioni qua mi faccio una marea di pippe mentali sull'alimentazione ma non so se abbia funzionato meno oppure sia stato un effetto placebo ma insomma da qui a pochi minuti alla fine della fiera ciò che conta il risultato mi sento decisamente meglio e dopo aver fatto questa discesa ed un'altra salitina abbastanza breve in controllo venendo anche sorpassato da più di un atleta decido di alzare il ritmo e spingere a fondo da qua al termine. In fin dei conti dai ho sempre un pettorale al dosso e insomma un po' di carogna sale e finalmente tolgo il freno a mano per vedere se in questi ultimi 4 chilometri circa residui riesco a recuperare qualcuno e perché no chiudere sotto le 5 ore che sarebbe per me ad oggi un risultato enorme. Qualcuno pian piano effettivamente lo recupero alcuni di quelli che pochissimo prima mi avevano a loro volta sorpassato. vado spedito giù per le ultime discese e provo a spingere di più in salita. Anche perché tutto il tratto conclusivo di gara è effettivamente a salire anche con pendenze infami soprattutto dopo così tanti chilometri. L'ultimo salitone è forse proprio l'ascesa in assoluto più dura dell'intera gara comprendendo anche quegli scalini infamissimi degli ultimi metri. La pendenza è costante sopra il 10% con punti anche del 20 e c'è più di una persona che recupero che è completamente scoppiata e non va più su nemmeno a spinta nonostante che da qual termine manchi veramente poco. In questi minuti do veramente tutto quello che ho fino alla fine anche se spesso sono lo stesso costretto a camminare per via delle pendenze e della fatica che si è man mano accumulata. Me la batto anche con un paio di altri runner che supero e poi loro a mia volta mi ripassano. Non lo faccio assolutamente per il piazzamento che uno o due posti in più o in meno mi cambiano poco ma per provare a darmi ulteriore benzina così come faccio spesso in queste situazioni di gara nel finale per dire dai come obiettivo supero quello lì o perlomeno ci provo. Stavolta però infatti entrambi ne hanno più di me e mi arrivano meritatamente davanti e tra l'altro alla fine ci complimenteremo a vicenda post traguardo ma insomma ormai ci siamo. Corro la morte tutto il tratto che resta in paese fino all'ultimo centimetro ed è sempre un'emozione devo dire tagliare un traguardo a braccia alzate. E proprio appena arrivato come se il mio corpo superata quella linea finale non ne avesse più mi viene un crampo l'unico proprio di giornata ma perché in verità ho gestito bene le energie fatta eccezione per questo finale con una sparata random insensata dove mi si era tappata la vena per l'ultima mezz'oretta. E in effetti anche a vedere i tempi qua ho fatto davvero bene 44 minuti e mezzo per l'ultimo parziale di 6 chilometri contro i quasi 52 minuti dello scorso anno. Ad attendermi al traguardo c'è quella santa della mia ragazza che ha dovuto attendere per 5 ore il mio arrivo qui si somma quel minutino buono per riuscire a riprendermi dopo il crampo e lo sforzo finale. Ed oltre a lei è rimasto anche il buon Francesco giunto quasi 10 minuti prima di me super contento della sua prestazione e direi che non potrebbe essere altrimenti. Così come è accaduto in altre gare e nella stessa mattinata in griglia con Simone mi fa sempre molto molto piacere incontrarvi e salutarvi ed è anche questo uno dei motivi per cui faccio questo podcast onestamente. Sono veramente contento ho tagliato il traguardo felice sorridendo godendomi praticamente ogni metro di questa gara divertendomi un sacco anche se non avevo particolari ambizioni. Alla fine non sono riuscito a stare sotto le 5 ore come a un certo punto ho anche sperato di fare ma poco cambia. chiudo ufficialmente in 5 ore e 3 minuti togliendone complessivamente 14 erotti dal tempo del 2022 con in aggiunta al fatto di non aver spinto mai se non negli ultimi 4 chilometri circa come raccontavo. Anche a livello di posizione in classifica sono migliorato 133 esimo assoluto su 420 e 117 uomo su 329. Ma oltre al tempo e al piazzamento ciò che mi soddisfa realmente come l'ho vissuta e soprattutto come l'ho gestita con maturità devo dire divertendomi e chiacchierandosi a più riprese ma soprattutto senza andare mai fuori giri se non nel finale chiudendo bene una gara comunque non banale anche perché non preparata nello specifico non pensavo neanche di avere proprio nelle gambe tutti questi chilometri. Perché tra parentesi era da un po' non facevo così tanta strada e dislivello in una sola uscita. L'ultima volta era stata a novembre per il Valtellina Wine Trail ed è passato un bel po' di tempo e a dimostrazione di questa mia buona gestione anche il successivo controllo sempre postumo del mio piazzamento in classifica ai vari intermedi certifica in un certo senso la cosa. Sono passato 143 esimo al primo ristoro, 139 esimo a metà gara, 133 esimo a Vista Renni e sempre 133 esimo alla fine. Sono stato davvero molto costante ed era quello a cui puntavo. Sicuramente mi ha aiutato l'esperienza dell'anno precedente ma anche una maggior consapevolezza delle mie capacità acquisita con le gare di questi ultimi 12 mesi oltre ad un motore di base se vogliamo presumo leggermente migliorato. Non sono partito con nessuna ambizione particolare se non quella di mettere chilometri e dislivello nelle gambe godendomi l'esperienza. Tutto questo c'è stato ma ne è uscita fuori in aggiunta pure una buona prestazione ovviamente parametrata per i miei standard da amatore medio. Insomma davvero una bella giornata dove tutto è andato benissimo sotto tanti punti di vista differenti. Per chiudere come sempre un paio di notte al volo sull'organizzazione nel caso qualcuno volesse fare questa gara in futuro anche altre distanze. Personalmente non ho avuto alcun problema sia ritiro pettorale velocissimo che durante la gara. Per me è filato tutto liscio anche se forse rispetto alle edizioni precedenti c'era qualche volontario in meno lungo il percorso. Volontari che ringraziavo personalmente correndo e che ringrazio tuttora ad ogni modo in questo momento con questo podcast sono veramente fondamentali. La 42 comunque era ben balisata avendo anche la traccia caricata sull'orologio e conoscendo più o meno il tracciato anche se non ricordavo chiaramente un incrocio per me non ci sono mai stati dubbi su dove andare. Però ho anche sentito soprattutto per la 73 km qualcuno sbagliare strada. A livello di cibo di alimentazione come raccontavo qualcosa di solido l'ho preso da ristori seppur non moltissimo di solito tendo a fare quasi tutto da me. I primi due erano leggermente meno forniti dell'anno precedente ma non c'erano grosse necessità. Secondo me per noi della 42 km forse avrei giusto messo una o due tanniche in più di acqua soprattutto a San Polo nel secondo per velocizzare le operazioni di riempimento senza creare code ma sono veramente dei dettagli al pelo nell'uovo anche perché alla fine fermarsi pure quei 30 secondi in più sotto sotto non ci fa poi così male. Invece davvero ricchissimo e fornitissimo quella Villa Vista Renni così come anche gradito molto quello di fine gara. Complessivamente questo Chianti è una competizione che promuovo assolutamente sia a livello organizzativo che di posti di paesaggi di panorami tant'è che appunto sono tre anni di fila che ci torno e le colline del Chianti c'è poco da fare hanno sempre un grande fascino su di me. Al solito ho pure messo qualche storia in evidenza sul mio profilo Instagram anche se stavolta ho fatto meno di altre occasioni ve lo lascio comunque in ogni caso linkato nelle note. Assieme a quello sempre in descrizione metto anche l'attività su Strava dove vi invito pure a seguirmi così se volete potete spulciare questa gara e gli altri allenamenti che faccio. Anzi a proposito di Strava grazie davvero a tutti tutti quelli che hanno commentato non solo su Strava ma anche su Instagram, Telegram in privato eccetera eccetera. Mi fa davvero super piacere il vostro supporto anche se quelli veramente forti sono altri non sono di certo io ma insomma grazie lo stesso a tutti. Così come ringrazio Maddalena è doveroso la mia ragazza per l'ennesima prova di pazienza nei miei confronti e anche tutti quelli che mi hanno salutato e fatto compagnia prima durante e dopo la gara. Un grande saluto e un abbraccio a tutti. Tra parentesi è stato un weekend ricco di gare e positivo anche per tante altre persone che conosco sia personalmente che online tra Chianti, Shacketrail e Mare Montana e davvero complimenti a tutti perché insomma i tempi sono stati buoni buoni per tante persone. In tutta onestà devo anche ammettere che mi sarebbe piaciuto essere nelle mie zone delle cinque terre in questo fine settimana per Shacketrail pur non essendo stato estratto anche solo per essere lì. Peccato che tutte queste gare si siano accavallate nei soliti giorni. Ho affogato questo enorme dispiacere alla sera stessa della gara poi scofanandomi di buon cibo e buon vino come giusto che sia ma questa è un'altra storia. Per scoprire cosa mi riserverà il futuro e scuriosare un po' i dietro le quinte vi ricordo di seguirmi su instagram e iscrivervi a telegram trovate tutti i link anche loro nelle notte dell'episodio e se volete darmi una mano lasciate una recensione a 5 stelline sulle varie piattaforme di ascolto e per unirvi alla community dei pazzi che mi aiuta e mi sostiene sempre nelle notte c'è il link per accedere a patreon che è un modo proprio per sostenere fisicamente tangibilmente questo progetto. Potete iniziare anche solo con un euro al mese già lui da solo vale moltissimo fidatevi. Per oggi è veramente tutto. Cari runners prossimo step 54 chilometri ci sentiamo alla prossima puntata